L'ora in poi farai affidamento solo su di te. Prova la struttura di addestramento con la mappa. Benvenuto nell'addestramento Hell Diver. Il tuo istruttore ti attende più avanti. Procedi pure. Attenti! Sono il generale Presh, il soldato più anziano ed esperto della superterra. E non è affatto facile impressionarmi. L'addestramento degli Hell Diver è il più duro della galassia. Ma chiaramente l'ho per te. Incredibile. Ora basta con le chiacchiere. Le prossime sfide metteranno a dura prova anche il tuo fisico straordinario. Questo è il momento. Questa è roba seria. Impegnati, soldato. In tutta la mia carriera non ho mai visto tanta perfezione acrobatica. È giunto il momento del nostro iperrealistico simulatore di battaglia. Esatto. Roba seria. Eccellente. Come dico sempre, non c'è simulazione migliore della realtà. Ora, attivare simulatore di danni da battaglia. Stringi i denti, soldato. Prendi quello stimolante e rimettiti in sesto. Non oggi! Come nuovo. Ora, datti una dittemana. Stai per conoscere il peggior nemico della democrazia. Recuta. Eccolo là. È un terminide. Un flagello della libertà. Prendi un'arma e insegna a quell'insetto cosa vuol dire libertà. Precisione spettacolare. Ora, zetta una granata per sigillare quella buca di insetti. Altrimenti continueranno ad arrivare. Braccio granata. Wow! Hai un braccio catapulta! Andiamo avanti. Guarda in alto nel cielo, recluta. Quello è un super destroyer. I suoi potentissimi stratagemmi sono al tuo servizio. Usa uno stratagemma per liberarti di quegli insetti. Ma assicurati di stare a qualche passo di distanza. Ah! Lunga vita alla democrazia. Ottimo lavoro. Prossima lezione. Gli Eldiver lavorano in squadra. Ecco il tuo nuovo commilitone. Benvenuto, Eldiver. Che soldato! Il tuo fratello d'armi. Un legame forgiato in battaglia che non potrà mai dissolversi. O forse no. Questa è la vera lezione. I compagni possono morire sempre e moriranno molto spesso. Ora, usa lo stratagemma rinforzi per chiamare altri Eldiver a sostituirli. Benvenuto, Eldiver. Molto bene, soldato. Ammiro la tua determinazione. Non è mai facile affrontare e superare la morte di un compagno. Pronto a tutto, Reclota. Adesso facciamo sul serio. Sarete solo tu, l'arma che porti e duemila megatoni di esplosivi attorno a te. Tacci dentro! Solo un consiglio. È difficile mirare quando ti muovi. Per una migliore precisione, resta immobile quando spari. Vediamo la posizione. Lancio granata! Quegli stupidissimi insetti non avevano speranza contro una mente tattica e geniale come la tua. Tu sei totalmente invincibile! Aspetta, Reclota. È il momento di chiamare l'artiglieria pesante. Usa lo stratagemma arma ausiliaria per procurarti una vera arma. Così si fa! Ora, usa uno stratagemma rifornimento per ottenere altre munizioni. Preparati, soldato. Adesso basta giocare. Questa è l'ultima prova. Questa è roba davvero seria. Dacci dentro! Quest'area ha urgente bisogno di essere liberata dal flagello dei Terminidi. Attiva quel terminale! Mai visto attivare un terminale con tanta eleganza? Ora, da qualche parte c'è la bandiera della superterra. Trovala e sistemala. Che tutti ammirino la sua gloria democratica. Ecco la bandiera della superterra, Reclota. Mettila al suo posto. Assicurati di mostrarle il rispetto che merita. ? Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Splendido lavoro, recluta. Hai già servito la democrazia molto più di qualsiasi soldato che abbia mai conosciuto. Hai dimostrato il tuo valore. Sei pronto a indossare il mantello. Ecco un vero Hell Time. Mi ricordi me da giovane. Forte, imbattibile e alto due metri e dietro. E adesso la più grande di tutte le sfide. La guerra galattica. Libertà, democrazia, giustizia. Ora tutto è nelle tue mani. Generale Bresh, passo e chiudo. E adesso? No. 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 Grazie a tutti.